Si continua su emendamenti per l'Isola d'Ischia, visto che questo Governo se ne dimentica, e si prova a suggerire un qualcosa di semplicissimo, qualcosa di semplicissimo che è fondamentale per l'economia dell'isola, ovvero un riconoscimento, un indennizzo per gli ovvi mancati ricavi per le attività commerciali dell'isola. Vi ricordo che l'isola ha subito in pochi anni sia un terremoto che un alluvione, vi ricordo che l'economia dell'isola d'Ischia è fondata sul commercio e sul turismo, e quindi se continuiamo semplicemente ad ignorare tutto questo, stiamo dicendo ai cittadini dell'isola, ai commercianti dell'isola, non riaprite le vostre attività, perché è questo quello che tranquillamente e facilmente si può vedere andando nei comuni di Casamiccio e negli altri. Semplicemente si possono vedere le saracinesche chiuse e semplicemente si può parlare con i commercianti che ti dicono noi il prossimo settembre, la prossima stagione estiva non la faremo, non la faremo, non ci riusciremo a sopravvivere. E quindi è fondamentale, fondamentale intervenire. Ma forse questo voi non lo sapete perché ci tengo a ricordare una cosa che dissi tempo fa in quest'Aula, una cosa secondo me tremenda, ovvero che è assurdo che dopo tutto questo tempo il Presidente Meloni non si sia degnata di mettere il piede nel comune di Casamicciola. È assurdo. Grazie.